E consolatevi, non siete voi, non foste, e non sarete nella prima, nell'ultima, guardate. In questo monticcio libro è tutto dei nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese, testimonio di sue donnesche imprese. Madonna, il dettaglio di questo, delle belle capo il padre mio, un catalogo che io che ho fatto io, Osservate, leggete con me, Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagno è 131, Cento in fronte, tutti hanno vant'una, vai, di Spagna, ma è di Spagna, sono già millitre, millitre, millitre. In Italia 640, in Lamagno è 331, Cento in Francia, in Tordia, non sono già millitre, millitre, millitre. Occhio queste contattine, camerine, cittadine, voti, tesse, baronesse, mortisane, principese, e vantone, doni grado, doni forma, donità, doni forma, doni età, doni forma, doni età. Nella bionda, e la lussanza, Vilo da mar, la gentilezza, Nella bruna, la pastanza, Nella bianca la dolcezza 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 Nella bianca la dolcezza